insomma però con questa maglia qui mi sembra di essere un professore guardate che bella professor stefanone professor stefanone dei metal detector e delle padelle bobine detec e allora questo è un video diciamo cumulativo di tutte quante le bobine che se qualcuno vede che i modelli che ho visualizzato della detec non rientra nel metal detector che disponete allora la detec non fa solo queste io vi ho fatto vedere quelle più richieste quelle di metal detector più in corsa per la ricerca ma la detec fa bobine anche per altri metal detector perciò come dicevo nell'altro video se non so se l'avete visto l'ho spiegato un po nel vostro metal detector se non trovate fra i modelli che vi ho elencato contattatemi mandate un email al sito solito metaldetector24.com oppure medialettra.com dove mi spiegate il metal detector che avete quello che volete fare e dopo vediamo di trovare la bobina giusta che a volte la detec come dicevo ne fa anche per altri modelli ma non abbiamo solo la detec abbiamo la distribuzione anche della mars anche le bobine mars sono ottime bobine sono leggere sono fatte bene sono affidabili e diciamo è un po complementare perché fa altri modelli differenti che non fa la detec perciò se non c'è un prodotto detec di bobina per il vostro metal detector ci può essere un prodotto mars per il vostro metal detector eventualmente rivendiamo anche le black dog quelle di francisco pacco come si chiama adesso già penso che abbia venduto non lo so ha preso in mano la gestione l'altro 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 distributore abbiamo anche come rivendita le bobine black dog perciò fra le dette fra le mars fra le black dog direi che quasi quasi abbiamo la bobina di serie per tutti i vari tipi di metal detector oltre naturalmente ci tengo a precisare per ogni tipo di marchio di metal detector abbiamo i suoi originali dicevamo di solito essere già con la 11 essere già con la 10 con la 13 la 10x13 secondo il modello hai capito se non volete le bobine originali abbiamo gli altri modelli extra di bobine adattabili fra la detec la mars e la black dog e allora dietro tutti i vostri amici guardate qua che bella maglia mi sembra di essere il professor stefanone alla spiegazione dei metal detector delle bobine tutto quanto se volete sapere qualcosa se vi viene in mente che volete sapere qualche informazione sulle ricerche sui metal detector eccetera stesso uguale mandate un messaggio nelle descrizioni o tramite metalldetector24.com tramite medialetro.com ci sono le mail che io vi rispondo ciao a tutti